Uno degli appuntamenti più sentiti e tradizionali del weekend pasquale in provincia di Frosinone è il tradizionale bacio delle Madonne, un antico culto che caratterizza il lunedì dell'Angelo sia a Castrocello e sia a Colle San Magno. La tradizione vuole che il corteo di Castrocello arrivi prima di quello di Colle San Magno per non perdere il diritto di precedenza. Così lunedì dopo Pasqua numerosi devoti alle 7 del mattino iniziano la processione partendo dalla chiesa parrocchiale di Santa Lucia situata nel centro storico di Castrocello. Comincia così la salita dei fedeli verso il Monte Asprano attraversando un sentiero difficile, tortuoso e portando a spalla la statua della Madonna di Castrocello fino alla vecchia chiesa situata sulla vetta del Monte Asprano. Più tardi parte anche il corteo di fedeli da Colle San Magno quando i due cortei si incontrano, cioè quello di Colle San Magno che sale mentre quello di Castrocello scende, a quel punto avviene il famoso e tradizionale bacio delle due Madonne.